Le esperienze di mense nelle scuole, di mangiare a scuola, di cui si sta parlando in questo convegno, sono davvero un riferimento nazionale. In altri posti non è così. Qui abbiamo un territorio dove si può dire chilometro zero, da altre parti magari dire chilometro zero non è proprio la stessa cosa. Terreni inquinati, situazioni che non sono paragonabili alla nostra di Torino. Noi abbiamo bisogno invece di andare avanti sull'educazione alimentare, portarla anche nelle scuole superiori. L'esperienza per esempio torinese che ha portato a realizzare anche in alcune scuole superiori alcune mense è il modo migliore per fare davvero quella cosa che diciamo, c'è la scuola aperta. Se vogliamo che i ragazzi possano restare a scuola anche il pomeriggio magari per fare i compiti insieme e non rimbecillirsi davanti ad un computer magari svuotando il frigo di quello che trovano e fare le mense anche nelle scuole superiori. Creare quelle condizioni per cui risolvere un bisogno primario con l'ecolo di mangiare, possibilmente mangiare bene e poi continuare a fare lezione, a giocare insieme, a fare attività sportiva. Questo è l'obiettivo più importante della scuola aperta e questo è l'obiettivo più importante anche per migliorare il livello di istruzione dei nostri ragazzi. Ti ringrazio.